Hola a tutti ragazzi, io sono il vostro Luke e oggi finalmente siamo tornati qui in un nuovo video davvero molto breve ma molto coinciso come avete visto dal titolo ragazzi oggi bene si ho creato il nostro gruppo telegram pubblico che vuol dire che qui ragazzi potete entrare quando volete, il link è in descrizione e possiamo parlare di tutte le cose più belle di questo mondo tra cui ragazzi il canale, alcune opinioni su alcuni youtuber che ultimamente stanno deludendo ma sono altre cose alla quale farò un video quando fare i video vi chiederò dei consigli riguardanti i video quindi magari è meglio rimanere molto attivi per ora sono 21 membri mi aspetto un po' di più affluenza quindi mi raccomando ragazzi vi aspetto davvero in tanti detto questo prima di proseguire con le altre cose riguardanti il gruppo ragazzi premessa questa sera uscirà il primo video serale delle 7 di FIFA 17 sembra un gioco di parole ma non lo è comunque ragazzi finalmente proverò a caricare due video al giorno quindi mi raccomando spolliciate sia questo che quello di stasera magari a molti non può interessare molto FIFA ragazzi ma io direi diamo una possibilità a tutte le serie detto questo ragazzi cosa importante riguardante il gruppo una cosa chiedo prima di tutto rispetto non solo per me ma per chi fa parte del gruppo quindi ragazzi niente insulti, niente spam, niente spam di canali youtube, niente link strani, niente di scorretto perché ragazzi vi avverto vi bannerò anche se c'è un admin bot che è appunto un moderatore che gestisce la chat vorrei evitare di bannare qualcuno quindi ragazzi cercate di fare le persone serie vi ricordo il link lo trovate in descrizione potete parlare di qualsiasi cosa, idee per i video, idee per le live qualsiasi cosa di cui vogliate parlare detto questo ragazzi questo breve video finisce qui mi raccomando questa sera alle 7 video di FIFA vi aspetto in molti like, commento, condividete ma soprattutto iscrivetevi al canale ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi